Ho conosciuto un ragazzo. Punto F. Attraverso Francesca R. A cura di VB. Alessandra. Qualche anno fa ho conosciuto un ragazzo, che era forse un maestro, non lo so. Dopo il suo abbraccio ho sentito una forte energia nel mio petto, energia positiva. Era proprio una sensazione fisica. Che vuol dire? Guida, è quello che dicevo prima. Certe entità evolute che hanno scelto di incarnarsi vi hanno fatto partecipi della loro presenza e il loro compito. Alessandra. Ma che significato ha avuto per me quell'abbraccio? Guida. Ti ha fatto capire che sei capace di sentire. Quando sei in presenza di un'energia, la senti. Il tuo essere ti avvisa. Non è vero come tu dici che non senti nulla. Quando sei in presenza di una energia, la senti. Alessandra, ma questa energia ha agito dentro di me? Guida. Tu hai sentito l'energia, che ha avuto un'interazione con te. Ma anche se non sentivi l'energia, ugualmente essa entrava in contatto con te e ti serviva. Grazie. 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 Grazie.